Termina l'esperienza tarantina del direttore generale Stefano Rossi, direttore generale della ASL di Taranto. Ecco che bilancio si sente di tracciare dopo questi sette anni pieni? Innanzitutto un bilancio umano. Le esperienze di lavoro sono esperienze umane prima ancora che professionali. Io qui a Taranto mi sono arricchito umanamente oltre che professionalmente. Ho conosciuto un territorio stupendo, Taranto è l'intera provincia. Dal punto di vista professionale ho conosciuto le vere eccellenze e soprattutto un tratto umano non comune che ci ho tenuto anche a sintetizzare in questo libro dove abbiamo raccolto tutte le lettere di ringraziamento dei parenti e dei degenti a fuori operatori sanitari. A loro va il mio ringraziamento. Tornarsi indietro cosa farebbe e cosa invece non farebbe? Col seno di poi se ne potrebbero fare tanti di ragionamenti ma io penso invece a quello che è stato fatto. È quasi ultimata la struttura del San Cataldo. Siamo al terzo anno della facoltà di medicina. Abbiamo realizzato tante bellissime strutture territoriali. Penso alla sede della salute mentale nel Santissimo Crucifisso. Una rete di presidi territoriali che si sono completati come quello di Massafra e altri che sono in via di completamento. Abbiamo fatto gli investimenti forti anche a Lizzano, a San Giorgio. C'è tutta una rete territoriale che va anche nell'ottica di quelle che sono le linee di indirizzo del nuovo PNRR. Quelle sono le direttrici su cui ritengo la futura direzione continuerà a muoversi.